Oh, oh, mangerò qualche minerale e guarderò un po' di tv, chissà cosa c'è in televisione proprio adesso. Marco è stato contro le forze del male, infineato, proprio adesso. Ciao. Oh mio Dio, Alex, sono appena uscito oggi. Marco è stato contro le forze del male, destra. Alex viene in macchina. E certo, sali in macchina. Ecco Dio, guarda un film. Assicurati di tornare e di venire in prendericola la nostra McDonald's, ok? Al qualunque cosa voltoio. Proprio uomo, la stella del cinema o la stella cinema? Beh, ho bisogno un po' di porco. Ho bisogno di porco. Dov'è? Ho pensi di aver finito di porco. Oh, guarda io. Vai a prendere tempo per il porco. o ok i o ok vado a prendere il boco mi sono preso mi sono preso su qualcosa di a mi sono preso Qualcosa non è ancora un po' di popcorn. Sei sicuro di voler adesso? Eh sì, ci voglio adesso. No, ma lo guardavo... Aspetta, inizia, inizia, inizia capitano. Sì, va bene. Non lo rubare niente. Sì, va bene. What the heck was that? Oops, I thought you wanted a little danger. Who are you? I'm a magical princess from another dimension. Hey, is it a? Come? Come, come. Used the conversation, are you? Either way? Wrong. But she's like me, sending a littlerok newerところ here next. Here are we? hillie красивo?